Uè Eric, ma dove sei? Scendi che ci facciamo un aperitivo. No, aperitivo no Marco, non ci arrivo, sto lavorando. Ah vabbè dai, allora ti chiamo più tardi, veniamo a ballare. A ballare? Eh no guarda Marco, scusami che c'è un impegno importante, ci sentiamo domani. Ma quale ballare? Stasera sera da Gomorra. Signori e signori, ho il dispiacere di presentarvi l'esercito dei 30. I nuovi vecchi, quelli che non vanno più a ballare. Hai presente le uscite il sabato sera? Ubriaco come una pera, sembravi una chimera. Hai presente le birre tipo le Tennens? Nescolavi 20 o forse di più, come facevi lo sai solo tu. E dopo andavi a ballare? Perché volevi scopare? Tentavi proprio con tutte, soprattutto le brutte, tanto chi se ne fut? Ma se te lo chiedo adesso, mi mandi a fanculo presto. Ti butti sopra il divano, telecomando in mano, vita da argastolano. Siamo l'esercito dei 30, di chi fa il mutuo per l'iPhone. E non abbiamo più contanti, e non usciamo manco un po'. Perché siamo stanchi, siamo stanchi, siamo stanchi, e ci fa male ossa. Sarà colpa del lavoro, che tra l'altro manco c'è, manco c'è, manco c'è. Ti ricordi che andavi in palestra ogni sera? Avevi un fisico da pantera, adesso usi la pancera. È presente che collezionavi mutande? Dici che non esistono più, ora che sei fidanzato anche tu. Ma poi che cosa è successo? Primo uscivi più spesso? Non avevi mai fanni in giro a combinar danni, eri un grandon Giovanni. Invece guardati adesso, sembri mio nonno depresso. Non cerchi più la bottiglia, ma vuoi fare famiglia e vuoi anche una figlia. Siamo l'esercito dei trenta, di chi fa il mutuo per l'iPhone. E non abbiamo più contanti, e non usciamo manco un po'. Perché siamo stanchi, siamo stanchi, siamo stanchi, e ci fa male ossa. E ci fa male ossa. Sarà colpa del lavoro. Sarà colpa del lavoro. E tra l'altro manco c'è, manco c'è. Non ce n'è. 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 Un ciné. Un cinnè Un cinnè